La verità, il socio metterla a città, e chi mi lancia è il TV, e chi mi lancia è il TV. E non puoi pensare di più, e non fico tu, e cosa fai? E si va dentro, è la TV! E non puoi pensare di più, e non puoi pensare di più, e non si vedi a chi mi lancia è il TV, e non c'è chi mi lancia è il TV, e chi mi lancia è il TV. Grazie per la visione! Grazie per la visione!